Dopo un po' di tempo siamo riusciti a ottenere delle temperature che superano i 300 gradi, 320 gradi, si vedono i dettagli della resistenza, facendo un po' di zoom, con il filo metallico avvolto, 320 gradi, su quattro elementi radianti, tutti uguali. Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Questa sera il mio ringraziamento va a Maurizio, alias Zodiaco69, perché ha mandato un pacco con molto materiale, di cui faremo l'unboxing subito dopo. Si tratta di materiale a radiofrequenza, qualche kit nuova elettronica, super tester ICE, non vi voglio svelare niente in anticipo, lo vedremo nel pacco. L'episodio di questa sera è particolare, qui abbiamo circa 38 gradi, oggi è molto caldo e paradossalmente andrò a fare delle prove termiche, dove raggiungerò delle temperature superiori ai 300 gradi. Per monitorarle utilizzerò questo oggetto, che è una termocamera economica di Tooltop. Dunque, ho allestito questo carico di potenza, costituito da dei resistori veramente cicciotti. Andremo ad alimentare queste resistenze e osserveremo il profilo di temperatura con questa termocamera. Faremo anche le misure con il wattmetro, per essere sicuri che tutte le configurazioni di potenza siano come atteso e come prevede la teoria. E quindi, buona visione! All'interno del pacco trovo questa lettera, dove Maurizio fa qualche ringraziamento per i contenuti del canale e ci anticipa che troveremo un ricevitore AMFM della rivista nuova elettronica, che forse sarà da tarare, dei tester IC680G che saranno da riparare, ed inoltre altro materiale a radiofrequenza che di sicuro ci sarà molto utile. Grazie mille, Maurizio! Procediamo con questo unboxing pepatissimo. Calendario 2023, Marina Militare, Amerigo Vespucci, Orgoglio Nazionale. Devo dire, grazie mille, apprezzatissimo. Poi abbiamo un wattmetro RF, modello Thermaline, potenze fino a 150 Watt, 50 Ohm, garantiti. Guardate la bellezza di questo indicatore. Progettini nuova elettronica, questo è un kit oscillatore AF sperimentale. Direi che svariati MHz li riesce a coprire, magari questo lo vedremo in un prossimo video dove lo monterò su mille fori. Ricevitore SSR1 della Drake & Co. Qua abbiamo le bande, arriva fino a 30 MB, perfetto, questo veramente interessante da un punto di vista radioamatoriale. Poi il tuner AMFM, glorioso progetto di nuova elettronica che cercheremo di rimettere in pista. Contenitore sempre per progettini nuova elettronica. Ed infine tre tester ICE 680G con problematiche. Anche queste ce le teniamo per un video. Ah, dimenticavo, abbiamo anche questo PM667 che è un counter ad alta risoluzione 120 MHz. Lo vedremo in una prossima puntata. Per analizzare il comportamento termico ho deciso di creare un setup di potenza abbastanza importante. Utilizzo queste resistenze che sono della TE Connectivity. La singola resistenza vale 22 Ohm e ha una potenza nominale di 1000 Watt. Ovviamente conviene non arrivare a quel taglio di potenza per non arrivare a temperature incredibili. La tecnologia con cui sono realizzate è filo avvolto, lo vediamo qui. Poi sono trattate con un materiale per garantire uno smaltimento del calore efficiente. Su questo supporto, un po' imbarcato, ne abbiamo sei. Decidiamo ora le configurazioni di potenza da provare per analizzare le immagini termiche relative a queste configurazioni. Per fornire potenza senza troppi limiti utilizzerò direttamente la tensione di rete. 230 V alternati 50 Hz, mi raccomando sempre massima tensione quando si maneggia direttamente la rete elettrica. Difatti in questa maniera non avrò limitazioni in potenza, ossia non dovrò utilizzare trasformatori, variac o altri oggetti che potrebbero limitare la corrente disponibile. Nell'utenza di casa possiamo andare tranquillamente a 3 kW e anche qualcosina di più. Cominciamo con la configurazione 1 dove prevediamo le tre resistenze da 22 Ohm in serie e applicheremo la 230 V agli estremi di questa serie. La potenza totale impiegata sarà pari a tensione al quadrato diviso il valore totale della resistenza, cioè 230 V al quadrato diviso 66 Ohm, 800 Watt. La singola resistenza, quindi sarà questa potenza diviso 3, 267 Watt. In questa configurazione la corrente che assorbirò dalla rete elettrica per la legge di Ohm sarà pari a 230 V diviso 66 Ohm, 3.48 A. Per il cablaggio utilizzerò del filo con sezione 4 mm quadri, supponendo di poter arrivare a densità di corrente fino a 5 Ah per mm quadro, di conseguenza fino a 20 Ah, magari per non troppo tempo, potrà andare bene, e capicorda per assicurare un buon collegamento. E dopo un po' di crempature ho collegato il carico, costituito da queste tre resistenze superiori collegate in serie, e il mitico Wattmetro Yokogawa VT110, già visto nel video 738, gentilmente donato da uno di voi. Lo schema di cablaggio riportato direttamente sul case, abbiamo dalla sorgente un filo che entra nell'amperometro, sezione grossa, poi da questo più o meno esce e se ne va al carico, linea superiore. L'altra linea va diretta al carico, ma viene agganciata da questo terminale, e poi abbiamo il voltmetro agganciato a quest'altra linea. In questa maniera potremo vedere tensione corrente e potenza. Ho dato tensione, il wattmetro legge 212 volt alternati, 3 Ah e 10 assorbiti per una potenza di 655 Watt. Sono numeri più bassi rispetto a quelli che abbiamo stimato. Il problema è qui. La tensione di rete qui è bassa, perché io sono dietro trasformatore di isolamento, e poi abbiamo anche delle cadute. Però, diciamo, la configurazione è di tre resistenze in serie, in questo momento sta erogando questa potenza. Ho sezionato un collegamento per vedere la tensione a vuoto, 220 Volt. Quindi ora mi attacco prima del trasformatore di isolamento, in modo da avere un valore più alto. Qualcosina abbiamo guadagnato, 228.5. Colleghiamo il carico. A carico, il valore RMS della tensione è di 224.9 Volt, 3.32 A, 743 Watt assorbiti, per una potenza di circa 246 Watt per ogni resistenza, supponendo che siano esattamente identiche. Verifichiamo le cadute di tensione ai capi delle singole resistenze. Sulla prima abbiamo 74.66 Volt, seconda 74.85, terza 74.64. Direi potenza di divisa esattamente per tre. Per l'analisi termica utilizziamo una termocamera economica della Tooltop, questa ET12S. ha anche le funzioni di multimetro integrate. Viene fornito già con pila a litio carica, pronta ad essere utilizzata. Accensione, teniamo premuto, parte in modalità IR, quindi lettura temperatura. Notiamo la differenza di colore delle tre resistenze, quelle inferiori sono completamente scure, queste qua superiori ovviamente sono colorate con la scala. leggiamo anche la temperatura, cerchiamo di puntare nella zona dell'arancione, qui siamo a 103 gradi, andiamo nella zona qua del bianco, questa resistenza sembra più calda delle altre da questa distanza, 123 gradi, il punto più caldo. Mi sono messo proprio sopra, l'aria circostante è 49 gradi comunque, se mi avvicino al corpo della resistenza, 126 gradi, qua al punto più caldo. Ecco, cerchiamo di muoverci. Ecco, vedete il cursorino si è messo esattamente nel punto più caldo, 130 gradi. Osservando la mappa termica, lungo tutto il corpo della resistenza, sembra essere proprio equamente distribuita, lungo tutta la superficie radiante. Questo è vero per tutte e tre le resistenze. In questo esempio, l'analisi termica serve proprio a questo, cioè far vedere che il calore è equamente distribuito, lungo tutta la superficie dei componenti, senza discontinuità. Se osservo la resistenza anche da davanti, qua vediamo che ci sono i forellini, che fanno vedere comunque punti caldi all'interno del supporto. La parte metallica, invece di supporto, vedete che è fredda. Questa è importante perché la struttura che ospita questo carico non va in temperatura e quindi non ci sono rischi toccando la parte metallica. Ricordiamoci comunque che c'è la 230 volt esposta, quindi sempre massima attenzione. Ovviamente, passando la mano da queste parti, l'aria è decisamente calda, specialmente in queste intercapedini, però il carico è realizzato in maniera tale da avere lo spazio necessario per dissipare bene il calore. Nel caso di potenze più elevate, è consigliabile utilizzare una ventilazione forzata per estrarre ancora meglio il calore. Osserviamo le altre grandezze rilevate dal wattmetro. Abbiamo 85 VAR, quindi Volt Ampere reattivi. Infatti sappiamo che un po' di induttanza c'è, visto che la resistenza è realizzata con filo avvolto. quindi 85 VAR contro 738 Watt. Il fattore di potenza è 0,994, quindi non è idealmente 1. E se vado a vedere i gradi, infatti ho 6,5 gradi di sfasamento tra tensione e corrente, proprio dovuti alla natura induttiva di queste resistenze. Aumentiamo la potenza in gioco con la configurazione 2. Collegheremo infatti due resistenze da 22 Ohm in serie sulla 230 V di rete. La potenza totale erogata sarà data dal quadrato della tensione diviso la resistenza totale, cioè 230 V al quadrato diviso 44, 1202 Watt, che si divideranno in maniera equivalente sulle due resistenze e quindi ogni resistenza dissiperà circa 600 Watt. La corrente che attraverserà la serie di queste due resistenze, legge di Ohm, 230 V diviso 44 Ohm, 5.22 A. Ho eseguito i collegamenti, la 230 V entra qui, una resistenza in serie con la seconda resistenza e ritorna indietro. Quindi impiegheremo 22 Ohm più 22 Ohm, 44 Ohm totali sulla 230 V. Il wattmetro regista una tensione applicata di 222 V, corrente assorbita 4.9 A, per una potenza totale di 1,085 kW. Si può dire dunque che ogni resistenza sta dissipando circa 500 W, qualcosina di più. La potenza reattiva sono 122 V, ovviamente aumentata, il fattore di potenza è rimasto praticamente uguale, 0,993. Valutiamo la distribuzione delle temperature di questa configurazione. Cominciamo dalla resistenza più a sinistra che non è collegata, il colore potrebbe ingannare, però vedete abbiamo 54 gradi, si sta ancora raffreddando, infatti questi componenti hanno un'inerzia termica pazzesca. Se vado sui due componenti collegati, infatti la temperatura schizza a 262 gradi, in questo caso, in questo punto, 280, cerchiamo di trovare il punto più caldo, sì, 284. Da questa parte, 297, qua siamo quasi a 300 gradi, 310 gradi, qui, eh, in questa zona qui. Proviamo la configurazione 3, che prevede due rami in parallelo, uguali al ramo che abbiamo provato in configurazione 2, ossia due resistenze da 22 Ohm in serie, e poi in parallelo. La potenza totale, questa volta, siccome abbiamo 44 Ohm in parallelo con 44 Ohm, avremo 22 Ohm totali alimentati dalla 230 Volt, la potenza assorbita dalla rete sarà di conseguenza 230 Volt al quadrato diviso 22, 2400 W teorici. Le correnti, la corrente sarà sempre 5,22 A, come nel caso di prima, sul singolo ramo, ma siccome ne abbiamo due, la corrente totale assorbita dalla rete sarà 10,4 A. Ogni resistenza dissiperà 600 W, e quindi tutte e quattro globalmente dissipano 2,4 KW. Dal punto di vista della singola resistenza, rispetto a prima non cambia molto, però consumiamo una potenza doppia rispetto a prima e la temperatura in questa zona dovuta alla dissipazione di calore di tutte e quattro le resistenze sarà di sicuro più elevata. Il carico l'ho disposto in verticale perché questa volta utilizzeremo anche parte delle resistenze del lato inferiore. Abbiamo due resistenze in serie, qui sopra, e due resistenze in serie qui davanti. Questi due rami sono messi in parallelo. Il wattmetro fornisce queste misure, vedete che la tensione di rete è un po' calata, 218 Volt, 9.7 A assorbiti, 2.11 KW di potenza erogata. Ho dato tensione, vediamo le temperature, stanno salendo piano piano, 96 gradi su questo primo elemento, qua abbiamo anche qua quasi 100 gradi, e poi ci sono gli elementi posteriori, collegati sempre lì in parallelo, temperatura anche qua 100 gradi a salire. Dopo un po' di tempo siamo riusciti a ottenere delle temperature che superano i 300 gradi, 320 gradi. Si vedono i dettagli della resistenza, facendo un po' di zoom, con il filo metallico avvolto, 320 gradi, su quattro elementi radianti, tutti uguali. Questa è la configurazione a massima potenza, verrebbe voglia di aggiungere un altro ramo in parallelo, utilizzare tutte le resistenze, per arrivare a una potenza di oltre 3 KW, ma io non posso farlo, perché ho delle utenze, e ho un contattore appunto sui 3 KW, di conseguenza ci fermiamo qua, anche perché quello che interessava a me, era vedere soprattutto il calore sulla singola resistenza. Questo tasto ci permette di commutare nella modalità multimetro con le funzioni lettura, tensioni continue alternate, prova aggiunzione, ometro, prova continuità, misura di condensatori. I comandi si impartiscono dallo schermo che touch, ad esempio la misura di continuità, verifichiamo, ok, misura di tensioni alternate, fino a 750 volt RMS, stiamo misurando 220.2, perfettamente allineato con quanto misura il wattmetro. Il multimetro non effettua misure di corrente, effettua misure di resistenza, siccome è un 4000 count, da un range minimo di 400 Ohm, fino al range massimo di 4 Mega Ohm, per quanto riguarda la capacità, da 50 nano fino a 100 micro, è touch e si possono raggiungere i menu semplicemente toccando, ad esempio per la IR camera, abbiamo la possibilità di selezionare gradi Celsius o Fahrenheit, l'emissività, è prevista una modalità USB per scaricare i dati, e sempre tramite l'USB, da questo lato, si ricarica lo strumento. Bene, e con questo termina il video, io vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto, vi è stato utile come sempre, un bel pollice in su, io vi saluto, ciao, e alla prossima! M-M-M-M- predomin�! M-M-m-M-Monster Kill! Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti